venerdì 6 gennaio dalle ore 16 e 30 nel centro storico di lizzano presepe vivente quindicesima edizione in collaborazione con la confraternita santissimo rosario di lizzano durante la rappresentazione sarà possibile gustare vini e prodotti tipici della cultura culinaria lizzanese ci stiamo occupando del centro della cultura per l'infanzia una realtà fortemente sostenuta dall'assessorato alla cultura e alla pubblica istruzione retto dall'avvocato gina lupo l'abbiamo qui al mio fianco e dopo aver parlato di alcune attività fondamentali portate avanti da questo centro mi riferisco proprio alla sfida per la per la lettura la lettura di un buon libro alla creazione delle favole ci sono altri spunti ci sono altri input per così dire che vengono praticati lanciati nell'ambito delle attività del centro beh se come abbiamo detto per i bambini più piccoli miriamo attraverso le favole a esprimere la loro creatività e il loro mondo perché come ho detto il bambino piccolo racconta la sua favola la mima e costruisce anche il libro della sua favola preferita per i bambini più grandi l'intervento educativo e formativo attraverso sempre il gioco attraverso sempre un momento ludico perché il bambino si deve divertire imparare divertendosi lì cerchiamo di dettare delle basi molto più importanti come per esempio un'educazione alimentare spieghiamo i vari alimenti la loro funzionalità il non farsi prendere dalla smania per esempio della dieta per creare disturbi dell'alimentazione si affrontano delle tematiche anche più importanti come il bullismo per i bambini un po più grandi cieli e per gli abusi in genere che possono provenire anche dalla stessa famiglia il centro serve anche a permettere di incontrare i genitori svolgeremo degli incontri con i genitori sui temi ammecari come il bullismo il cyberbullismo come gli abusi intra e extrafamiliari e quindi qui ci rivolgeremo ad i genitori che interagiranno con me con il mio staff ma inoltre per il 2017 abbiamo dato il via a tre importanti iniziative la prima iniziativa è il dare l'avvio al primo campionato di lettura d'altavoce questo è un progetto a cui io tengo moltissimo sulla scorta di quello che avviene nei paesi anglosassoni dove i bambini sono frequentemente invitati a misurare le loro capacità attraverso una sana competizione perché non ci sarà mai il vincitore in realtà i bambini saranno tutti vincitori abbiamo lanciato quest'idea del campionato interscuola e devo dire che molte scuole in complessi di scuole hanno dei rito adesso siamo nella fase della redazione del regolamento perché noi dobbiamo come ovvio essendo un vero e proprio campionato in piena regola avere un regolamento scegliere i testi che sono differenti a seconda delle classi dei bambini prima seconda e terza elementare quarta e quinta prima e seconda e terza media perché i testi devono essere gli stessi su cui i bambini si devono sfidare ci saranno delle semifinali perché i bambini si sfideranno nella loro scuola poi i vincitori migliori sfideranno gli altri bambini di altre scuole e così via attraverso finali e semifinali insomma arriveremo agli ottavi per usare un gergo a te molto caro e poi arriveremo alla sfida finale che mi auguro sia coincida in aprile con il giorno della giornata per il libro mondiale sul libro perché quale giorno migliore che non festeggiare il primo campionato di lettura d'alta voce il secondo momento a cui noi abbiamo pensato è quello di creare l'angolo della carezza dove nel centro appena il clima sarà un po più umite porteremo alcuni piccoli animali di cui molto spesso i bambini non hanno contatto diretto se non attraverso fotografie o libri come un piccolo asinello una capretta tibetana un piccolo porcellino d'india cuccioli di cane o di gatto chissà magari anche un puledrino che saranno messi in un angolo nel centro della cultura mi auguro di sabato e anche di domenica così i bambini avranno il loro angolo della carezza perché guarda Luigi è stato sperimentato in alcuni asili in cui l'animale domestico è entrato proprio nell'asilo che il bambino viene abituato al rispetto nei confronti dell'animale a rispettare i suoi tempi a rispettare la sua voglia di giocare o non di giocare e si hanno meno casi di bullismo perché il bambino esercita una relazione diversa dalla prepotenza nei confronti di un animale quindi quale mezzo migliore ci può essere per quello e per ultimo la lascio per ultima ma è un'iniziativa che mi sta molto a cuore il centro per la cultura ogni martedì e ogni giovedì già da subito Luigi potrà essere fruito dai genitori separati perché guarda spesso io mi rattristo a vedere i papà separati che incontrano i loro figli nei bar della città spesso questo accade di martedì e giovedì non so perché è una convenzione dei nostri tribunali concedere ai papà il martedì e il giovedì come giorni pomeridiani dove possono incontrare i loro bambini il sabato bene io ho chiesto che questo centro meraviglioso dove ci sono delle educatrici fantastiche possa essere anche usufruibile dai genitori separati dai papà che quindi in un ambiente sereno molto allegro colorato con delle educatrici preparate possano portare gli loro bambini possono giocare con i loro bambini possono attingere ad una grande biblioteca che abbiamo lì per fasce di età e ci saranno anche dei testi specializzati proprio per chi sta attraversando la fase critica di una separazione e quindi credo che questo anche sia un qualcosa di importante per queste tre innovazioni che vanno ad aggiungerci già al grandissimo lavoro che il centro culturale per l'infanzia in questi ultimi anni ha posto in essere grazie a tutti